Si dice che il piacere dell'attesa sia la stesa stessa Io dico che ciò che mi piace di più è avere l'evento e non averlo atteso Perché c'è finalmente un evento farmabile E si farma E farmiamo allora E subito una pagina Eh sì perché quando ci sono questi eventi farmabili O è un evento Budokai Oppure ci danno quindi questi oggetti Questi strumenti da Questi strumenti da collezionare durante le lotte Ovviamente cadono in maniera casuale E una decadama molto cattiva qui in fondo Ok mi piace Dunque il primo era subito un boss Ah ora invece c'è proprio il coso vero e proprio Ah perché ora ti introducono l'evento dicendo Guarda che adesso devi raccogliere gli oggetti Devi fare tanti livelli E vabbè Allora non perdiamo tempo Non so cosa capita di bello Però questo è un altro evento Gnartur C'è Gnartur E beh Ah niente Niente di fatto probabilmente Anche se quella Oro potrebbe nascondere Ricchezze inestimabili No Ah non avevo ancora trovato Luce Com'è che si chiama? Lucenio? Lucio? Non mi ricordo Bene o male di Gnokai Ho sempre gli stessi del primo account Quindi Ah felicio Oh questo Vediamo un po' se è dell'evento di questo Gnartur Non è di questo Gnartur Ho scoperto Per puro caso Che anche di eventi passati Però se sono inerenti all'evento in corso Potrebbero avere Qualche effetto Non è questo il caso però mi sa Potrebbe uscire un bel Whisper Ok C'è un po' di roba che potrebbe uscire a quanto pare Ma non a me Un nonno fame Let's go Con un'altra multi Eh quando è ora è ora Quando deve arrivare arriva Ovviamente Dato che questa è una Multi buona E nuova sicuro Me la voglio godere Buono Robo Nyan Chi Kay Robo Nyan Kay Non non Ah Grazie alla campagna Me lo porta direttamente al livello 50 E al livello 3D Energy Max Quindi Se trovi lo yokai dell'evento Te lo porta così al 50 E ti aumenta anche l'Energy Max Allora hanno Non lo so È una supposizione Hanno Dicevo O hanno Dimezzato il pull E quindi è più difficile pullarli E quindi ti danno un contentino Oppure Boh Non lo so Dovrei leggere le notizie A parte su Twitter ci stanno le notizie Quindi Me le vado a leggere lì Oggi Domani E dopo Ma vieni qui Ma bello Dammi il tripla Z E facciamola finita Cioè nel senso Dai Chi è Ah Z Me l'aspettavo Che era Z E non tripla Z A quanto pari È per la campagna dell'evento Eh sì sì Eccolo Stai anche qui Non ci ho fatto caso Va bene A questo punto Se mi dai anche Gibanyan Tripla Z Stiamo a posto Magari poi Mid event Provo a pullare l'altro Dai Su Non fare il Il Cazzorre Dai Dai Fai il bravo Su Non farmi buttare I punti così Dai Sì va bene Si farmano Stavolta Però dai Niente Ha detto Ti ho dato i due Basta Dice È un po' troppo Dopo no E va bene Adora va bene Scendo a 99 Chi se ne frega Senti dai Faccio l'ultima Per davvero Poi dopo mi stacco Perché No Non può essere Dopo mi Gioco d'azzardo Proprio E allora Accogli la richiesta È nuova È G-Banyan Per forza È G-Banyan Per forza No Nathan Ma che pale Nathan Perché ci sei tu Qui dentro Ci sei da S-G-Banyan Già 91 Già mi sento male Però Dai 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 ora Eh però G-Banyan Pure tu Sei un pezzettino Ma neanche È segnata Insomni Z Ma che cos'è Sì sì È la campagna Che mi porta a 50 A livello Ma non è segnata Neanche Insomni Guarda Proprio perché Proprio perché C'è la possibilità Proprio perché C'è la possibilità No Basta 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 Fin troppo Fin troppo Ho usato Va bene Va bene Mi fermo qui Mi fermo qui Quindi Con la campagna Di questa gacha I primi Non so quanto dura A un giorno A un giorno solo Bene Ti aumentano Fino al livello 50 E ti dà altre energy max Va bene Ci sta Però Quelli che dicono loro Quelli che sono pubblicizzati qui Questi Può arrivare a livello 80 È già In tripla z Ad ogni modo Per questo video è tutto Gli yokai Che dovevo trovare L'ho trovati Insomma Non è andata male E poi Dekadama Qua sotto Super Incredibile Beh Ce se la può fare Dai Bene Per questo video è tutto Vi ringrazio per averlo seguito In descrizione Trovate tutti quanti i link utili E noi Ci vediamo ovviamente domani Con un nuovo video Bye bye